Buongiorno a tutti gli amici di Van Doren, mi chiamo Alessandro Carbonare e sono di passaggio a Parigi, sono qui in vacanza con la famiglia e come sempre sono venuto a dare un saluto ai miei amici a Ruy-le-Pic. Mi hanno fatto conoscere questo nuovo attrezzo, questa nuova invenzione della casa Van Doren, che è un tagliaance ed è particolare perché per la prima volta un tagliaance viene costruito sulla misura esatta del modello particolare di ancia che viene prodotta. Io per esempio da tanti anni suono la V12 e questo tagliaance è un tagliaance fatto apposta sulla misura della V12. Quindi credo che questo prodotto è molto importante, sarà davvero molto utile per la mia attività, per l'attività di tutti quelli che hanno bisogno qualche volta di ritoccare l'estremità delle ange.